SLAVA TEBI CHRISTE BOŽE, CRANIO SLAVE MIE CITRE Crea in me, o Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza. SLAVA TEBI CHRISTE BOŽE, CRANIO SLAVE MIE CITRE Gospodin svam, il Signore sia con voi. Navještaj svetog evanđelja po Mateju. El Vangelo secondo Mateo. Quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi ha il figlio che gli chiede un pane, darà una pietra, e se gli chiede un pesce, gli darà una serpe. Se voi dunque che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, cari fedeli, è successo a San Francesco di Sales, è nato in Francia e ha vissuto nel XVI secolo. È stato ordinato sacerdote nel 1593 e poi è diventato il Vescovo di Ginevra. Un giorno andava con cavallo in un villaggio. Lì incontrò un contadino che gli disse «Sia lodato Gesù Cristo, eccellenza, le devo dire qualcosa. Io posso pregare così raccolto senza pensare a null'altro». «Questo è eccellente», disse il Vescovo. «Non ho incontrato nessun altro che è riuscito a farlo. Devo premiarti, se riesci a pregare l'intero Padre Nostro senza pensare a null'altra, ti regalo il mio bellissimo cavallo». Il contadino fu molto felice e iniziò a pregare. «Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. riceverò il cavallo con attrezzatura o solo il cavallo?» domandò il contadino. Il Vescovo sorrise e disse «Ne uno, ne l'altro» e continuò il suo viaggio. Il contadino allora ha capito che nemmeno in quella preghiera più breve non è riuscito ad essere raccolto. «Cari fratelli e sorelle, la preghiera è il cuore di ogni preghiera. Dove muore la preghiera, muore la fede». Anche se il linguaggio della preghiera ha varie forme, ringraziamento, «Dare, chiedere qualcosa». Tutto è riassunto in una invocazione unica. Veramente? Come oggi spiegare queste parole di Gesù? «Chiedete, vi sarà dato». «Cercate, troverete». «Bussate, vi sarà aperto». Ci domandiamo «Forse preghiamo tanti anni per certe intenzioni, ma questo non succede. Preghiamo per una nostra malattia, preghiamo per la situazione nella nostra famiglia, per la conversione del nostro marito, per anni, eppure non succede nulla». Gesù disse «Cercate prima di tutto il Regno dei Cieli e tutto il resto vi sarà dato in giunta». Veramente bisogna distinguere tra la preghiera sincera e i nostri desideri. Quando preghiamo il Signore, «Signore, fa che io abbia successo nel lavoro, nello studio, dona la felicità ai miei figli». «Questo non è null'altro che i nostri desideri personali. La preghiera è ciò che Gesù prega». Non ha detto mai «Padre, donami i tesori terreni. Padre, donami la posizione nella società. Padre, donami la corona regale». ma ha detto «Padre, sia fatta la Tua volontà. Padre, fa che siano una cosa sola. Proteggili nel Tuo nome». Queste sono le vere preghiere. Perciò, fratelli e sorelle, proprio per questo, spesso abbiamo la sensazione che Dio non ci sente e la verità sta nel fatto che noi non sappiamo come pregare. Mettiamo oggi tutto il mondo nella preghiera. Preghiamo per la pace nel mondo. Preghiamo affinché la Sua gloria arrivi da tutte le parti del mondo. Dio possa prendere questo mondo nelle sue mani, possa guidare tutto e anche i nostri progetti di vita. La preghiera è ciò che aspettiamo, ciò che ci edifica, che ci dona la comunione. La preghiera è la comunione con Dio e la forza. Di questo racconta anche la storia che vi racconto. In una visita di un convento hanno chiesto il priore come mai i suoi religiosi vivono in una bella comunione e appartengono a varie nazioni e hanno varie educazioni. Il priore rispose prendiamo per esempio una una ruota che è composta da tanti pezzi e tanti pezzi sono collegati e la ruota rimane composta. Al centro sta Gesù Cristo. Da Lui viviamo. Lui ci tiene vicino. In Lui siamo tutti noi come fratelli cordiali. veramente il mondo intero oggi è diviso sia a livello politico sia a livello economico e in vari altri aspetti. Ma il mondo può unirsi soltanto nel nome di Gesù nella sua forza nella fede in Gesù Cristo nell'apertura al cuore di Dio. perciò fratelli e sorelle forse il messaggio principale del Vangelo d'oggi è bussate e vi sarà aperto chiedete e vi sarà dato cercate e troverete cioè non è tutto la responsabilità di Dio tante cose aspettano a noi spesso siamo davanti alla porta aspettando che si apra da sola spesso non domandiamo e aspettiamo che ci venga donato spesso nella vita non preghiamo e aspettiamo che la preghiera sia esaudita Gesù oggi desidera dire il nostro passo è primo passo noi dobbiamo bussare chiedere cercare e un tale uomo un tale cristiano trova la propria meta e la meta direi che Signore Dio qualcosa che ci forse fa sentire la paura o la delusione Gesù dice ai suoi ascoltatori anche voi se voi dunque che siete cattivi quanti siamo cattivi molti danno la colpa a Dio per tante disgrazie di questo mondo molti vorrebbero giudicare Dio invitano Dio alla responsabilità ma dimentichiamo cercare chiedere e bussare e Dio non desidera sforzarci anche noi se siamo cattivi questo dobbiamo ripetere dentro di noi spesso il male che ci succede spesso il motivo è dentro di noi Gesù nel Vangelo dice se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli quindi non abbiamo dimenticato fare le cose buone aprire il cuore all'uomo nel bisogno a colui che dobbiamo avvicinare il quale ha bisogno di noi ma dobbiamo ricordarci di questo e veramente in quella parte dobbiamo essere perfetti cioè come dice Gesù tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi anche voi fatelo a loro è bello sentire le parole belle le situazioni sono rare quando non conosciamo le persone non diciamo che le cose sono belle piacevoli quindi questo lo diciamo solo a coloro che conosciamo ma Gesù sottolinea Ato voi fate non dite troppe cose ma fatele veramente fratelli e sorelle quanti stasera siamo qui quanti ci ascoltano via internet e sono collegati nella preghiera quanti oggi sono con noi e pregano in questa Santa Messa se ciascuno di noi dopo questa Santa Messa decidesse di fare una cosa buona un gesto bello fare una testimonianza come siamo nutriti dalla parola di Dio abbiamo fatto del bene o almeno abbiamo tentato di fare il bene invece di fare del male che spesso ci succede nella vita Robert Sarach il cardino Nale e merito prefetto della congregazione per la dottrina della fede nel suo libro Dio o nulla parla di un esempio professore ha messo un vaso davanti gli studenti e in questo vaso ha messo grandi sassi piccoli sassi e poi ha messo la sabbia e quando credevano che tutto fosse pieno ha messo l'acqua e ha detto se l'uomo nel proprio vaso di vita non mette le cose più importanti queste cose importanti queste cose grandi rimarranno fuori rimarranno fuori del nostro vaso di vita in questo tempo di quaresima tutti siamo invitati cercare di più bussare di più chiedere di più al nostro signore facendo quello che noi desideriamo gli altri facciano a noi in modo che gli uomini ci mostrino la loro bontà mostrando quella parte bella della nostra umanità e della nostra fede cristiana Dio ci aiuti su questo cammino signore con la sua benedizione ci aiuti affinché possa sempre guidarci nella vita ed insegnarci amen adesso rivolgiamo la nostra preghiera al Signore per chi è colto da angoscia e non ha altro rifugio che Dio preghiamo per i discepoli di Cristo perché avvertano l'urgenza della preghiera sia personale sia comunitaria per scandire il ritmo di grazia preghiamo per i figli di Dio che lo riconoscono come padre perché abbiano l'audacia della preghiera e la certezza che essa otterrà cose buone preghiamo per noi tutti perché abbiamo verso gli altri la stessa preoccupazione che abbiamo per noi stessi preghiamo perché ognuno di noi posto di fronte alla propria personale responsabilità si converta a Dio e così viva preghiamo Signore chi ti cerca ha già trovato donaci un cuore povero capace di riconoscere il bisogno che abbiamo di te ed aiutaci ad avere fiducia nella tua generosità per Cristo nostro Signore Amen